ciao a tutti siamo paolo e patrizia e siamo qui in navigazione su nave msc magnifica esperienza aurea o tutto organizzato da maurizio della samovar la nostra crociera è partita da venezia abbiamo toccato vari il tireo dove siamo oggi domani andiamo a mykonos poi spalato e rientri remo domenica a venezia un ringraziamento veramente sentito a maurizio ea tutto il suo staff il quali ci organizzano sempre le nostre vacanze in maniera perfetta precisa puntuale ci stiamo divertendo ci stiamo rilassando e aspettiamo solo di ripartire con la samovar per la prossima crociera ciao a tutti ciao